buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi giovedì 24 settembre 2020 questa è fanno tv canale 17 e sul digitale terrestre in tutta la regione Marche c'è la rassegna stampa ad aprire la giornata informativa oggi avremo anche alcuni appuntamenti in diretta che tra poco vi dirò e allora cominciamo perché ci sono tante cose da dire questa mattina cominciamo con il santo di oggi il santo di oggi è un santo di casa nostra perché è san pacifico a san severino Marche nelle Marche san pacifico sacerdote dell'ordine dei frati minori insigne per la penitenza l'amore della solitudine e la preghiera davanti al santissimo sacramento l'alba è spuntata alle 7 un minuto fa tramonterà questa sera alle 19 06 allora dicevamo del tempo dicevamo del tempo allora andiamo subito a vedere la cartina geografica animata della protezione civile delle Marche che per oggi prevede possibilità di rovesci sparsi nelle zone montane non si escludono isolati e brevi fenomeni anche nel resto del territorio le temperature sono in lieve aumento i venti da sud ovest nelle zone interne poi da sud est lungo la costa deboli nella prima parte poi prevalentemente moderati dal pomeriggio sul vento bisognerà fare attenzione anche nei prossimi giorni per domani venerdì 25 settembre avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in montagna poi aumenterà la copertura nuvolosa a partire dalla serata di domani venerdì avremo rovesci sparsi nelle zone interne non si escludono isolati fenomeni anche nel resto del territorio specie sulla provincia pesarese le temperature sono in aumento quelle della notte i venti forti nelle zone montane sabato 26 settembre invece ecco come si presenterà il tempo con precipitazioni isolati rovesci nella parte pomeridiana del di sabato le temperature sono insensibile diminuzione i venti moderati dai quadranti settentrionali a tratti forti lungo la costa soffieranno piuttosto decisi condizioni di tempo instabile anche nella giornata di domenica vogliamo iniziare questa mattina la rassegna stampa con l'apertura di ancona del resto del carlino non perché io voglia sponsorizzare quello che adesso vedrete perché anzi direi di non far di non tenerne proprio conto ma comunque può essere una bella storia una bella favola anche un film da mendicante a paperone guardate questa fotografia che pubblica il resto del carlino in prima pagina la fotonotizia è la stessa persona a sinistra con la barba lo vedete mentre è in mezzo al traffico siamo a iesi dove quest'uomo appunto ha vinto 300 mila euro con un gratte vinci offro la cena a tutti dice lui a 60 anni e chiedeva le lemosina al semaforo con quei soldi ha conquistato acquistato il biglietto della lotteria e ha cambiato vita la tabaccaia dice ci ha detto che vuole ringraziare chi lo ha sempre aiutato e comprerà una bici perché ama la libertà e questa è la notizia la fotonotizia ripeto non perché io intenda sponsorizzare il gratte vinci e dire andate a giocare il gratte vinci nella maniera più assoluta anzi questo uomo se poi andrete a leggere il giornale insomma ha perso aveva perso il lavoro poi si era riadattato al semaforo in modo anche simpatico tutti lo volevano bene gli vogliono bene adesso sicuramente molto di più di prima ma comunque quello che è la storia era bella perché così insomma un po' come nei film si passa dall'indigenza sperando che sia felice poi perché non è detto 300 mila euro così subito daranno magari qualche soddisfazione ma poi qualche grattacapo soprattutto adesso che tutti sanno chi è e che questa storia sta già facendo il giro d'italia poi non tutti hanno buone intenzioni e gli si avvicinano per dargli e fargli complimenti ma comunque un'altra storia adesso andiamo a vedere invece l'apertura del resto del carlino questo è pesaro allora la fotonotizia è un'altra bella storia questa volta arriva dalle dalle terapie intensive perché la storia di lazzaro qui chiaramente il giornale ma chiunque potrebbe giocarci su su lazzaro lazzaro evangelico lazzaro ora cammina è la vittoria di un 75 anni di soria un quartiere di pesaro che ha battuto il covid dopo 200 giorni ceriscioli io segretario del pd prima penso alla scuola mentre una un'altra azienda passa di mano i cinesi comprano il 60 per cento della tvs di fermignano la trattativa è in corso cordoglio in provincia dio a cerni storico segretario comunale e poi la festa del patrono arte storia mostre per san terenzio ricco pacchetto di eventi in città nessun reato assolta coppia novax gabice portarono il figlio a scuola senza averlo vaccinato il giudice il fatto non è punibile restando a scuola invece in una elementare di petriano un alunno trovato positivo la classe isolata e affano invece la rabbia dei genitori per le aule non sanificate dopo il voto mio marito mi picchia da 40 anni la donna all'ennesima violenza è fuggita ed ha raccontato tutto ai carabinieri è il dramma di una settantenne e poi la tragedia ancora oggi sul giornale di viale 11 febbraio la ragazza di 33 anni che si è buttata dall'ottavo piano a pesaro un vicino tentò di salvarla aveva l'aveva ferrata per le spalle ma lei si è rivincolata fino a precipitare il corriere adriatico l'edizione di pesaro ripartiamo dalla sanità pubblica scuola e servizi sanitari sul territorio le priorità del sindaco ricci per rinnovare il pd cambiamo la narrazione questa adesso è la parola del momento prima c'era la resilienza adesso la narrazione ma fulvi invece rosetta promette una riflessione severa mentre urbino si concentra sul primato il grande sconfitto e gambini acquaroli filtra il primato lega per la giunta il re bus donne marchetti vorrebbe tre assessori arriva salvini e a proposito di salvini che arriva vi ricordo che oggi a mezzogiorno trasmetteremo in diretta da castelfilardo appunto la conferenza di salvini che incontra incontrerà a mezzogiorno o ha incontrato per chi ci guarda alle 13 e 30 in replica tutti gli eletti del carroccio appunto in regione andiamo subito però nella pagina di fano del resto del carlino perché c'è questo muro tra il pd e il sindaco massimo serri c'è un rimpasto vicino secondo quanto informa questa mattina la marchetti sul giornale la debacle elettorale acuisce le tensioni carboni di noi giovani dice i dem non lo hanno non hanno più il polso del territorio in bilico l'assessore tonelli e caterina del bianco ci sono due nomi il pd continua a lamentare la debolezza dell'assessore alla qualità urbana fabiola tonelli il cui operato non sembra soddisfare appieno nemmeno la sua lista di provenienza ovvero noi giovani per il partito democratico l'altro anello debole dell'esecutivo all'assessore alla cultura del bianco di noi città che ha assunto una delle deleghe che nella precedente legislatura erano del dem stefano marcheggiani che poi si è scritto nel frattempo ad azione di carlo calenda da via san francesco dove a sede appunto l'amministrazione comunale fanno sapere che l'eventuale rimpasto di giunta però non è legato alle elezioni regionali da invece dettato dalla necessità di modificare un assetto che non funziona sotto sempre dalla pagina di fano del resto del carlino la lega dice ora puntiamo la città intanto si rinnova la segreteria mei e doglioni non vogliono ricandidarsi invece ser filippi potrebbe rimanere anche in consiglio comunale intanto l'ex 5 stelle gianni maggi fa i complimenti a marta ma dice il movimento va verso la distruzione il toto giunta sei le deleghe in cerca di assessore ma la sanità è super corteggiata la partita delle nomine in giunta deve ancora entrare nel vivo la rosa dei candidati ha già le sue preferenze intanto in pole position e dovrebbe avere comunque un assessorato fisso sicuro certo il fanese Mirko Carloni che è il primo tra gli eletti nella lega con 6.827 voti un successo che lo ha fatto subito entrare di diritto nella rosa dei prossimi assessori regionali attorno a lui ruotano diverse deleghe compresa quella della sanità ma anche le attività produttive che potrebbero essere un suo cavallo di battaglia importante visto che proprio Carloni nella precedente legislatura ha realizzato numerosi dossier sull'economia marchigiana e l'impatto sul territorio insomma un rebus lui dice per scaramanzia preferisco non parlare anche perché questa è una partita che non giochiamo noi consiglieri cosa mi piacerebbe diciamo che sono a disposizione della coalizione e del presidente acquaroli per realizzare il cambiamento che la regione marche attende da troppo tempo dunque non si sbilancia per lui dunque l'effetto sorpresa sarà doppio ma tra i papabili c'è anche dicevamo filippo santa salta martini consigliere anche lui della lega e poi sotto ciccioli consigliere di fratelli d'italia medico da oltre 35 anni dice dico la verità la cultura non mi dispiacerebbe e poi francesco baldelli un altro pesarese della provincia di pesurbino intanto dice lui si deve fermare l'ospedale unico a pesaro io nella giunta è presto per dirlo come vedete insomma tutti restano a disposizione anche perché in questa fase delicata ogni dichiarazione anche riportata poi da giornali in modo errato provocatorio o quant'altro potrebbe rompere gli equilibri o far saltare bruciare come si dice in gergo la la poltrona allora intanto sul resto del carlino sanità carloni in pol ma c'è anche baldelli e la poltrona che scotta l'ex sindaco di pergola sarebbe molto interessato sempre che entra in giunta poi gli obiettivi di ser filippi andiamo sull'altra pagina invece del corriere adriatico ricci blinda subito gostoli gostoli è il segretario regionale del pd qualcuno chiede già la sua testa su un vassoio d'argento morani comunque ricci lo blinda morani e la responsabilità dice siamo tutti coinvolti il vice segretario alessandrini ci aiuti pure che si è tirato indietro abbiamo gli uomini per ripartire mastro vincenzo il pd ha mancato il ruolo di guida della coalizione qualcuno dovrà farsi indietro noi dobbiamo ricominciare da sanità e scuole pubbliche ricci in difesa di mangelardi e gostoli si vince si perde insieme nuova narrazione per il pd fulvi dice ci confronteremo con severità sulla sconfitta santi a urbino c'è chi ha perso anzi è gambini l'entroterra svolta a destra vitri e rossi atipiche novità cambiano i riferimenti la neodem scelta da occhielli e è un libero per acquaroli queste sono le foto dove vedete qui c'è michaela vitri con a fianco il lo sponsor ovvero palmiero occhielli e qua sotto invece con stima reciproca si danno la mano nicola baiochi eccolo qua con giacomo rossi che è stato eletto un po sorpresa come anche ammesso lui soltanto con 600 e qualcosa voti io segretario regionale del pd luca ceriscioli qualcuno non mi vuole bene scansa la possibile investitura ora devo correggere i test di ammissione dei miei alunni sono tornato a scuola con l'idea di restarci gostoli in sospeso e il futuro capodemma arriverà ad ancona non si sa tanti possono interpretare quel ruolo ma la politica io non la mollo dobbiamo riflettere dice in una nota rosetta fulvi segretario provinciale del dei democratici dobbiamo riflettere e molto sulla sconfitta ma chi si aspetta la resa dei conti resterà deluso continuano invece continua lo shopping dei cinesi dopo alluflon passa la mano anche tvs la l'indiscrezione la troverete sulla pagina sulle pagine del resto del carlino di pesaro questione di ore per gli ultimi atti che sanciranno la cessione del 60 per cento delle quote dell'azienda di fermignano la meier secondo distributore al mondo di pentolame c'è la guerra dunque ormai per il mercato europeo delle pentole l'operazione è stata condotta dallo studio marchionni e partners ed è dalla sede italiana della società km kmg e allora ci sono tutti i particolari in questo articolo di gennari sulla questione triste drammatica della ragazza che si è suicidata buttandosi dall'ottavo piano c'è il particolare oggi che non cambia poi l'epilogo purtroppo di un uomo di un uomo che l'aveva afferrata l'aveva vista la 33enne è volata giù dall'ottavo piano era stata raggiunta da questo inquilino ha cercato di trattenerla ma lei si è divincolata fino a precipitare un negoziante di piazzale lazzarini ha visto la donna a cavalcioni è a corso mentre la dipendente chiamava la polizia mentre sotto un 44enne di napoli incredulo per la pena ritenuta evidentemente mite rapinò un rolex il giudice lo condanna a quattro anni lui ringrazia e piange di gioia si è messo praticamente a piangere e ha promesso che cambierà vita davanti al giudice che lo aveva appena condannato a quattro anni di carcere per la rapina di un rolex e il furto di una bici da 3000 euro e la promessa che manterrà ovviamente dopo aver scontato la pena lui in questo momento ancora in carcere però insomma ha ancora un po di anni per riflettere per fare il piano della sua futura e nuova vita c'è una nuova vita anche per nonostante l'età per questo 75enne che di soria che è tornato a casa acclamato dai familiari dopo aver passato sei mesi in ospedale a causa del covid l'azzaro batte il virus l'ambulanza se l'era portato via il 9 di marzo è stato intubato per 24 giorni sono stati giorni terribili dice la moglie ma io gli ripetevo sempre sei forte un bel po come si dice a pesero sei forte un bel po e quindi alla fine ha vinto lui e lo vedete mentre abbraccia probabilmente la nipotina sì la nipotina appena sceso dall'automobile sono scene molto belle che commuovono in qualche modo allora andiamo adesso invece a vedere la pagina 5 del resto del carino alunno positivo la classe in quarantena a petriano 19 ragazzini di quinta della primaria i quattro insegnanti sono adesso tutti in isolamento avviato il tracciamento per capire dove si è contagiato questo bambino diagnosi veloce in futuro l'ideale sono i test rapidi fatti dai medici oppure dagli istituti a fano invece si discute perché è accaduto nei plessi di bellocchi e di carrara delle aule non sanificate i bimbi restano fuori in giardino la rabbia dei genitori un'ora di ritardi negli ingressi le scuse del preside inaccettabile dice una mamma pensare che martedì ci hanno fatto tenere i figli a casa per pulire in realtà evidentemente qualcosa è andato storto l'abbiamo visto ieri nel telegiornale abbiamo fatto tutte le nostre interviste anche al responsabile eleonora augello già contestati i lavori alla ditta che passerà di nuovo a sterilizzare tutti gli ambienti sul corriere a pagina 13 vaccinazioni medici e pediatri rilanciano gli ambulatori aperti anche nei fini settimana bocciata invece l'ipotesi dei drive di massa cioè quelli in macchina ci vogliono spazi sicuri per effettuare la prevenzione con la prima tranche di dosi che arriveranno potremo raggiungere circa 500 pazienti oggi invece dal Carlino l'addio a Giovanni Cerni aveva 86 anni storico segretario storico segretario comunale il funerale si terrà nel nella chiesa di Sant'Agostino a San Costanzo alle ore 16 nel 2005 gli fu attribuito un premio dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino se ne è andato anche Giorgio Merlanti imprenditore nel settore Pellami 77 anni era nato in provincia di Rovigo il 6 giugno del 1943 ma era abitava a Pesaro praticamente da oltre 50 anni il funerario di Giorgio Merlanti si terrà domani venerdì 25 di settembre alle ore 17 e 15 nella chiesa parrocchiale della parrocchia della Madonna di Loreto poi la salma sarà tumulata nel cimitero centrale di Pesaro fugge dal marito mi picchia da 40 anni questo è il titolo sulla pagina di Fano del Carlino al termine dell'ennesimo litigio una donna si rifugia dalla figlia e alle forze dell'ordine confessa una vita di sopraffazioni di violenza 10 maltrattamenti ogni settimana la situazione poi è peggiorata con il lockdown telefonate truffa invece di finti bancari boom di denuncia alla polizia postale sconosciuti affermano che la carta di credito è stata violata e chiedono le credenziali ma i veri malfattori sono loro quindi attenzione a non dare mai assolutamente i numeri della carta di credito al telefono dalla valle del metauro minacciati qui siamo a fossombrone da tafani e vippere e vipere devo lasciare fossombrone lo sfogo di una residente per l'incuria della vegetazione lungo la ferrovia è un tratto che è stato invaso da tafani vipere topi ruvi come vedete la notizia più attesa la data comunque ieri pomeriggio lo stesso sindaco gabrile bonci questa mattina in programma un sopralluogo da parte dei tecnici di rete ferrovie ferroviaria italiana la qua al quale partecipa anche un tecnico del comune con ogni probabilità dice il sindaco ci sarò anche io e quindi dopo il sopralluogo speriamo insomma che ci sia la pulizia andiamo sull'altra pagina del corriere dalla val cesano il cantiere è un calvario siamo a mondolfo tagliato il cavo delle luci quartiere senza illuminazione pubblica la ditta multata per i pericoli stradali era già stato abbattuto per errore un muro condominiale e sfondata la condotta idrica insomma evidentemente c'è qualche problema lavori sulle strade a frontone resta emarginata il sindaco ha chiesto aiuto al prefetto approvate agevolazioni anche per la tari la pagina di fardo il corriere aula in disordine con i rifiuti in vista protesta nelle scuole sedi di seggi brutta sorpresa ritorno in classe nel circolo didattico di san la preside dice i locali però sono stati sanificati abbiamo contestato invece dice l'assessore comunale sarà cucchiarini il lavoro della ditta incaricata segnala anche i problemi del servizio e dell'organizzazione scolastica otto proposte per il nuovo carducci sempre da fano 20 giorni per scegliere la migliore scartate tutte le ipotesi che prevedevano un sito diverso dall'attuale dopo il verdetto l'attesa del finanziamento tutti i progetti sono supportati da un plastico che consente una visione anche tridimensionale la rosa del nostro calcio passione volontaria la storia di una 17enne iachini rose iachini che sogno in grande ora puntiamo dice alla serie c da senigallia anche qui il problema delle aule non sanificate la scuola non riapre problemi in alcuni istituti cittadini con la rabbia dei genitori ci hanno fatto attendere due ore e alla fine siamo tornati a casa mentre un frontale due anziani sono finiti in ospedale un frontale sulla corinaldese poi bus non sono previsti gli accompagnatori dopo la protesta per la sicurezza ora le mamme sono pronte a rivolgersi al comune di senigallia per chiedere l'istituzione di questa figura cioè di una persona che accompagna in qualche modo i bambini o c'è un'altra notizia invece che arriva da senigallia guardate questa fotografia che cosa notate beh facile c'è il cerchio rosso e quindi si vede già subito la foto questa foto incriminata che riprende una cena tra ragazzi e sullo sfondo una bandiera italiana con l'immagine di benito mussolini cena con mussolini bello dice anzi scrive bravi ragazzi polemiche per i complimenti del neoconsigliere comunale di fratelli d'italia ad una foto di ragazzi con la bandiera del del duce questa invece la pagina di urbino del corriere adriatico che bello tornare all'università questa città è ormai casa nostra iscrizione in aumento via del centro di nuovo animate e anche gli studenti delle specializzazioni la riscegliono mentre scuola primaria gioiello stasera la presentazione a fermignano di questa nuova scuola questa rendering donato bramante di fermignano che potrà ospitare fino a 500 studenti c'è questo appuntamento alle ore 21 in comune per il plesso che sorgerà a calpino affitti case studenti il piatto piange siamo a urbino nel resto del carlino poche ancora le richieste per queste case in affitto ma da settembre stanno arrivando più chiamate le agenzie però accusano l'università non dà notizie certe sulle lezioni una camera singola in centro costa ancora da 250 a 300 euro al mese il palazzetto dello sport intitolato ad alberto carneroli campione azzurro per 12 anni del tiro a volo la città lo vuole onorare con un tributo perenne sabato 26 alle 10 e 30 al palazzetto di urbino c'è la cerimonia di intitolazione di questa struttura ieri vi abbiamo dato conto parliamo siamo già nelle pagine dello sport di un intervento all'occhio per il pallavolista diamantini l'intervento diamantini si è operato questo il titolo intervento riuscito per il centrale della lube dopo il distacco della retina dall'occhio destro de giorgi intanto prepara la finale di supercoppa di domani a verona perugia ritroverà atana e qui ve lo risparmio perché sennò stiamo fino a mezzogiorno fermignano arriva un'altra scuola questa è l'altra pagina del resto del calino questo è il rendere che si vede anche meglio con questa fotografia l'appuntamento stasera nel salone consigliare per entrare nel nei dettagli ora invece chi di voi almeno io ricordo dal bambino quando passavo da quelle parti mi veniva subito da guardare sul sul colle sul monte per individuare questo mappamondo che tutti abbiamo visto almeno una volta nella nostra nella nostra vita sta nella nostra provincia si trova da pecchio però purtroppo il mappamondo cosiddetto della pace è chiuso nonostante sia stato ristrutturato l'incredibile costruzione sul nerone di orfeo bartolucci ora è da rilanciare davvero dopo i primi anni di grande entusiasmo l'opera è stata un po lentamente dimenticata e allora cerchiamo di rilanciarlo perché insomma è davvero un'opera bella meritoria andiamo adesso a vedere le pagine sportive l'esordio della vis ancora nel dubbio sciopero sì oppure no continuano i contatti tra il presidente della lega pro e l'asso calciatori biancorossi dovrebbero debuttare sabato albenelli contro il legnago ma si usa il condizionale perché non si sa ancora se c'è questo sciopero intanto il ds crespini è sempre vigile sul mercato caccia di un playmaker mentre sulla pagina di fano di sport ovviamente in attacco serve di più ferrara in prova ma il club granata pensa anche a russini del cesena e a emma usso della vibonese si spera di giungere al nero su bianco con un altro terzino under destro ovvero garattoni del crotone intanto in eccellenza fossombrone fucili alza la mira del fossombrone pronti per l'esordio daremo tutto dice lui intanto i panthers i tifosi del fano ecco il calcio che vogliamo i tifosi di granata tra i firmatari di una serie di proposte da presentare al governo tra i punti la riqualificazione degli stadi e prezzi popolari e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del mattino vi ricordo a mezzogiorno la diretta da castelfidardo con l'intervento di salvini cercheremo anche di raccontarvi di intervistare gli eletti della nelle file della lega e poi questa sera le 20 e 30 il telegiornale occhio alla notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti